Musica Rivigoriti dal prestigioso successo in rimonta sul blasonato Francavilla, la matricola Virtus Castelfrentano vuole provare a fermare un'altra nobile decaduta del firmamento dilettantistico abruzzese. Nel secondo impegno consecutivo davanti al pubblico amico, i giallorossi del presidente Gianni Pasquini ricevono l'Ortona, una delle principali pretendenti al salto di categoria che arriva dopo il pareggio casalingo ottenuto con la capolista Casolana, una delle liete sorprese stagionali al pari della matricola Rapino. L'ambiente Castellino è tornato ad essere euforico dopo il difficoltoso avvio stagionale, anche comprensibile se vogliamo, visto l'impatto con la nuova categoria. Sarà difficile ripetere l'expload di domenica scorsa, ma i Virtusini non vogliono porsi dei limiti e proveranno a sfangarla, come sol dirsi, anche in questa occasione. Ebozzi a correre il primo rischio della gara, quasi a freddo, quando sulla rimessa laterale di Melchiorre l'intervento aereo del compagno di squadra Farindolini lo costringe ad inarcarsi per alzare la sfera sul fondo. Nuovo pericolo per la porta ortonese un minuto dopo, ancora sugli sviluppi di una rimessa laterale di Melchiorre. Conclusione degli avanti giallorossi e sfera che si spegne al lato. Dopo l'infruttuosa sfuriata iniziale dei padroni di casa, l'Ortona si assesta in mezzo al campo e si produce in un paio di interessanti opportunità. Al quinto il siluro dal limite di Selva Allegra, passibile pericolosamente alla sinistra di Cialdini, che al decimo rischia grosso sulla conclusione ravvicinata di Rosati, che viene dirottata in corner dalla quasi impercettibile deviazione della difesa castellina. Parentesi giallorossa al diciottesimo con il temibile diagonale dalla destra di Carniel, che chiama in causa Bozzi, pronto a bloccare la sfera. Gara godibile dagli spalti, con frequenti capovolgimenti di fronte. L'Ortona si fa rivedere con la conclusione di Selva Allegra dal vertice d'area, traiettoria prevedibile per l'appostato Cialdini. Poco prima della mezz'ora, invitante pennellata dalla destra di Di Pasquale, Rosati raccoglie il suggerimento e Di Testa crea qualche difficoltà all'estremo locale. Ma è la squadra di casa a rompere il ghiaccio. È il trentaseiesimo, infatti, quando Rossi conferma l'ottimo stato di salute, perfezionando nel migliore dei modi l'appoggio da fermo di Valentini, uomo assist dal versante di sinistra. I ragazzi di Mister Colussi provano a riemergere in chiusura di frazione, ma le penetrazioni dei vari Rosati, Farindolini e Petaccia si infrangono sul muro difensivo eretto dalla Virtus. I gialloverdi, chiamati a rimettersi in carreggiata, approfittano della pausa per riordinare le idee e alla ripresa dei giochi denotano una maggiore intraprendenza sottoporta. Dopo due giri di lancette dal riavvio delle ostilità, Di Pietro arriva in ritardo infinitesimale e non riesce a staccare perentoriamente sull'assist col contagiri di Selvallegra. Passa un minuto e un errato rilancio di Lanzara consegna un pallone d'oro ad un calciatore ortonese che non ne approfitta sino in fondo. Al settimo è Di Pasquale a cercare la conclusione, ma la traiettoria non è delle migliori. Va molto meglio al compagno di squadra Di Pietro che al dodicesimo agguanta il pareggio con un puntuale stacco ravvicinato che va ad intercettare il tiro d'angolo di Selvallegra. La Virtus è tramortita in questo frangente visto che non accena ad alcuna reazione significativa e va anzi a subire il sorpasso ospite che si concretizza appena due minuti dopo grazie al neoentrato Colagliezzi che svetta sulla pennellata dalla destra di Di Pasquale e da pochi metri indirizza la sfera alla sinistra del malcapitato Cialdini. Stavolta i Virtusini si scuotono e poco dopo si fiondano dalle parti di Bozzi impegnato dal destro di prima intenzione di Melchiorre dal limite d'area. Conda prova a far guadagnare metri in avanti ai suoi anche se il tentativo dalla destra si infrange sull'esterno della rete. I giallorossi che sfiorano il pareggio con la fuga sulla destra di Carniel che poi calcia frettolosamente e manca la porta arriva al trentottesimo con lo specialista Valentini che fulmina Bozzi con un magistrale piazzato dal limite. Ancora una volta il centrocampista, stavolta subentrato in campo in corso d'opera riesce a togliere le castagne dal fuoco e a rimettere in pista la squadra virtussina ma la gara non è finita e ognuna delle due contendenti vuole fare di tutto per portare a casa il bottino pieno. Selva Allegra costruisce l'azione e cerca di andarla anche a chiudere ma Cialdini non corre grossi pericoli. I ragazzi di mister Pasquini chiudono le incursioni con la ghiotta occasione per il neo entrato per Rucci ottimamente lanciato da Aielli che cerca di colpire da buona posizione ma l'opera di disturbo di Di Pasquale si rivela decisiva per indurre l'avversario all'errore. L'ultimo acuto della contesa spetta all'Ortona con lo scambio in corsa tra Di Rocco e Colaezzi rasoiata di quest'ultimo è Sfera che si spegne di un niente al lato ma con Cialdini sulla traiettoria è pronto alla respinta. Mister Colussi, qui oggi a Castelfrendano avete acciuffato questo pareggio sicuramente quel punto in classifica vi tira un attimo su però nel primo tempo la vostra squadra abbiamo visto un po' spenta? Il pareggio l'hanno acciuffato loro perché 2 a 1 era per noi quindi alla fine l'hanno acciuffato loro dove noi abbiamo sbagliato il 3 a 1 in ripartenza due o tre volte potremmo chiuderla al primo tempo nonostante non l'abbiamo fatto bene però siamo andati sotto sul primo vero loro tiro in porta una punizione laterale purtroppo ci manca un po' di cattiveria anche in queste cose comunque il primo tempo sì, non eravamo lucidi in fase di palleggio non abbiamo fatto benissimo secondo tempo secondo me siamo entrati con un altro piglio abbiamo fatto il 2 a 1, meritavamo di fare il 3 a 1 e poi su un errore di nuovo nostro su una palla rimessa in mezzo di testa invece di buttarla via abbiamo preso una punizione questo qua è stato bravo quello che è subentrato a metterla sotto l'incrocio ecco come diceva nel secondo tempo siete entrati con un'altra mentalità in campo e si è visto sicuramente quest'anno questo girone non è facile ci sono tante squadre attrezzate e quindi l'Ortona almeno punta alla salvezza noi dobbiamo giocare partita per partita questo è un campionato difficile ogni domenica nessuno ti regala niente e dobbiamo essere bravi noi in ogni episodio a portarci alla nostra parte oggi sia sul primo gol loro sul secondo gol loro sono due regali nostri perché anche il primo è nato da un fallo ingenuo nostro su una punizione laterale e il secondo uguale su una palla rimessa senza senso in mezzo invece di metterla lateralmente abbiamo regalato la punizione hanno fatto il 2-2 per il resto secondo tempo ripeto abbiamo fatto molto bene meritevamo qualcosa in più mister Pasquini un primo tempo da incorniciare inizio secondo tempo sembrava che non eravate scesi in campo e l'Ortona poi in campo si è visto e ha rifilato i due gol però sul finire comunque avete acciuffato il pareggio oggi che comunque con questo punto in classifica vi tiene sempre diciamo un po' più su Sì buonasera intanto ho fatto una disamina giusta della partita l'avevamo preparata bene il primo tempo siamo riusciti insomma a chiuderli non farli giocare poi eravamo andati anche in vantaggio ho fatto un bel primo tempo onestamente sì poi chiaramente di fronte abbiamo una scuola forte inutile negarlo che sicuramente c'è forse qualcosa in più di noi almeno sulla qualità il secondo tempo abbiamo avuto 15 minuti di blackout totale abbiamo compromesso un'ottima prestazione però nel finale credo che siamo riusciti a riprenderla un po' con i cambi un po' con loro che si sono un po' leggermente abbassati chiaramente se fanno il 3-2 la partita finisce in questo caso insomma quando non puoi vincerla però almeno non la perdi sotto questo punto di vista stiamo crescendo abbastanza anche oggi abbiamo tanti ragazzi in campo ci prendiamo il punto perché contro una grossa squadra è meglio prendere uno che niente ecco anche oggi abbiamo visto che questo girone non è facile l'Ortona era venuto qui sicuramente per portare a casa i tre punti voi gli avete dato comunque fastidio state lì e ce la metterete tutta per arrivare a fine campionato ma sì questo l'ho detto già qualche altra intervista a inizio campionato è difficilissimo perché adesso qua non ti regala niente nessuno ci sono squadre blasonate che stanno facendo difficoltà piano piano stanno risalendo è un cambiato veramente duro ci sono tante squadre buone non vedo questo gap tra le prime e le ultime insomma siamo tutti là adesso siamo solo la quinta giornata è difficile ripeto il calendario a noi non c'è andato bene domenica andiamo a affrontare il Miglianico Lanciano quindi ci stanno cambiate un po' tutte però questo è il calendario proveremo a fare i punti anche là e poi dopo questo trittico di partite speriamo di cominciare a giocare un po' con le squadre diciamo al nostro livello o quantomeno provarci per vincere sicuramente ce la metteremo tutta e poi ci stanno cambiare a giocare un po'